Oggi siamo con il terzo episodio della carriera con il PSB in Duven E ragazzi, l'ultimo episodio ci siamo lasciati con 3 vittorie Un ottimo episodio è stato Speriamo che in questo episodio sia ancora meglio di quello precedente E ragazzi, la prossima partita con la Z in casa Schiererò questa formazione De Jong, Di Pai, Traoré sulla destra, Wijnaldum a centrocampo con Allan e Guardado Willem, Terzino sinistro, Bruma, Ake, i centrali, Jedwai a destra e Zoet tra i pali Forza PSV, dai! Attenzione Ortiz, Johnson, il paleno a sinistra, attenzione Hoopers, scarto e portiere, rete! Cazzo, 1-0 per la Z Dai De Pai, De Pai, De Pai, De Pai, De Pai, De Pai! De Pai, De Pai, 1-1, prendiamocela, prendiamocela questa partita, riprendiamola! Dai ragazzi, vai! Vamos! De Pai, De Pai, che c'è? Oh, calcia di rigore, calcia di rigore, calcia di rigore per il PSV Dai ragazzi, De Jong Con il destro! Luke De Jong 2-1, rimonta completata per il PSV Allen di testa per De Jong De Jong, l'attacca diciamo, per Allen Allen l'allarga per Wijnaldum Può chiuderla Wijnaldum! 3-1, 3-1, 3-1 Mampis, Mampis Allarga per la, sulla destra per Traore! Che finalmente si sblocca! Traore! Finalmente, cazzo! Mamma mia! Finisce la partita ragazzi Vinciamo noi 4-1 Mamma mia! Ragazzi, giocheremo contro Lutrecht E questa è la formazione che schiererò in campo De Pai sale 80, è incredibile E dai, vinciamo questa partita a forza PSV Wijnaldum La mette in mezzo De Jong! De Jong! Mamma mia ragazzi! Un mostro! Un mostro! Mamma mia! E che gol! Che gol! Che gol! Mamma mia! Attenzione De Jong! Dentro per Joseph! 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 Pensavo era fuori Ma la palla è dentro! Joseph! Ragazzi, questo giocatore Mi sta facendo capire che lo devo mettere in campo Ma ragazzi, tra lui e Traore Davvero Devo alternarli ogni partita, credo Perché ragazzi, guardate che gol! Attenzione! Ma è... Lancia Traore! No! Traore si è di da me! Joseph! Joseph! Mi ero confuso con Traore! Ma l'importante è che abbiamo segnato 3-0 PSV No! Gol! È finita la partita ragazzi! Vinciamo noi per 3-1 Partita praticamente chiusa nel primo tempo E beh ragazzi, andiamo con la terza ed ultima partita Speriamo in un'altra vittoria E dai! Allora ragazzi, ecco la formazione Andiamo a vedere contro chi Dobbiamo giocare Contro Addo Addo Den Haag Squadra... Vabbè Sta la sesta in classifica Addirittura siamo secondi A 4 punti con una partita in meno però noi Quindi se vinciamo andiamo a meno uno Dall'Ajax Dai ragazzi, impossibile sbagliare No! Alberg No! 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 Gol della merda Tiki Taka continua e segna Dai ma questo è il script però eh 45esimo Fanno tocchettini Ditele pure all'aria E segnano così 0-2 No Vai Vai Vinaldo Oh oh! Facci diminuzione Questa è la posizione ideale per Memphis Depay Dai Depay Destro! No! Si fa male Vinaldo La partita è finita ragazzi Perdiamo noi 2-0 Non è possibile Non è possibile Non era il PSV in campo ragazzi Sono stati A parte che loro sono stati superiori a noi sicuramente Più cinici Davanti alla porta Come vedete 3 tiri in porta a 2 gol Noi 4 tiri in porta Non segniamo neanche Dobbiamo migliorare sicuramente Sulla cinicità Si infortuna per 4 settimane Vinaldo È logico Comunque ragazzi Vi faccio vedere la classifica Siamo quinti Ragazzi stanno Stanno tutte là addirittura Cioè guardate la quinta Cioè che siamo noi a 16 punti E la prima a 20 punti Cioè stiamo tutti là Basta che perdi una partita Stai al primo posto Perdi una partita Stai al quinto posto Vi ricordo di lasciare un like ragazzi Di commentare qui sotto Consigliandomi dei giocatori Mi lascerò qui sotto in descrizione La pagina facebook Il gruppo di FIFA Mi lascerò sotto in descrizione Anche il contest Di 500.000 grid Ancora in corso Facciamo almeno 15 like Per un altro episodio Con la carriera Del PSV Andoven Ragazzi Qui da Fishgamer Tutto bella Vai 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 Ambe lo vedo Questo lo vedo Menti Oddio 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 Oddio